Siamo giunti ormai alla settima tappa di questo cammino in 40 settimane per prepararci al tempo dei segreti. Abbiamo visto come alcuni messaggi di ordine generale quasi costituiscano una cornice che deve essere premessa ai messaggi che ho scelto di commentare in modo specifico, cioè quelli del 18 marzo, che dal 1991 ogni anno riceve Miriana, una delle veggenti di Meggiugorie. Abbiamo visto che i messaggi relativi ai segreti e alle apparizioni di Meggiugorie come le ultime apparizioni per l'umanità, un estremo appello alla conversione che la Madonna rivolge prima del grande combattimento escatologico, prima degli ultimi tempi che vengono inaugurati dallo scontro di cui parla anche l'Apocalisse, tra la donna vestita di sole e il dragone infernale. Questo sarà il primo dei due combattimenti escatologici, come anche l'Apocalisse dice, in mezzo ai quali ci sarà un tempo in cui Satana verrà incatenato. Il suo potere, ci diceva la Madonna nel messaggio del 14 aprile 1982, verrà infranto, non verrà distrutto. Non sarà cioè la sconfitta definitiva del demonio, ma ci sarà una sorta di riduzione potentissima dell'efficacia dell'agire del maligno e si avrà un periodo che la Madonna ha definito come un secolo di prosperità e di pace nel messaggio del Natale 1999. Adesso arriviamo finalmente a cominciare la serie dei messaggi del 18 marzo 1991. Sappiamo che quando la Madonna ha consegnato il decimo segreto a Miriana le ha anche detto che non sarebbe più apparsa a lei tutti i giorni. Ha avuto apparizioni straordinarie il 2 del mese per un certo periodo, dal 1987 al 2020, ma soprattutto la Madonna le disse ti apparirò il 18 marzo di ogni anno. Noi sappiamo che quel giorno la leggente Miriana compie gli anni, ma la Madonna le ha detto non è questo il motivo per cui ho scelto questo giorno, lo capirete nel tempo dei segreti. Ecco perché, cari amici, diamo una certa importanza al 18 marzo come scadenza importante per il tempo dei segreti. Potrebbe essere il giorno in cui verrà rivelato il primo segreto, potrebbe essere il giorno in cui cominceranno a digiunare Miriana e il sacerdote da lei scelto, che ad oggi è padre Peter Liubicic. Sappiamo che sarà una data importante, il 18 marzo, ed è per quello che ho provato a vedere questa serie di messaggi annuali e mi sono accorto che il legame con i segreti è evidente in ognuno di questi messaggi. Cominciamo dal 18 marzo 1991, un anno importantissimo, perché in quell'anno crolla l'Unione Sovietica, in quell'anno comincia a realizzarsi la promessa di Fatima, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Non è strano che in quell'anno comincino questi messaggi così importanti per prepararsi al tempo dei segreti, perché proprio in quell'anno si compie la promessa della seconda parte del segreto consegnato il 13 luglio 1917 ai tre pastorelli di Fatima. Se si convertiranno, se la Russia verrà consacrata il mio cuore immacolato, verrà concesso al mondo un tempo di pace e ci sarà il trionfo del mio cuore immacolato. Così diceva la Madonna ai tre pastorelli con queste promesse, il tempo della pace, il trionfo del cuore immacolato, che anche a Medjugorje più volte, in più messaggi, la Regina della pace ci ha ricordato, a dire quale grande e profondo rapporto ci sia tra queste due apparizioni che coprono un secolo, il ventesimo, che è il secolo della prova, il secolo di Satana, come già in precedenza abbiamo ricordato. Entriamo quindi con una certa apprensione in questo percorso di messaggi del 18 di marzo, perché sappiamo che in quel 1991 comincia il trionfo del cuore immacolato di Maria che si compirà quando avrà compimento la terza parte del segreto di Fatima, quella grande visione della persecuzione alla Chiesa, dell'uccisione del Papa, delle guerre che sconvolgono il mondo, che abbiamo detto, in fondo si possono riassumere nei sette ultimi segreti di Medjugorje, dal quarto al decimo, i cosiddetti castighi. Sappiamo che cominciamo a vedere il primo germoglio di quel trionfo del cuore immacolato di Maria che dopo i dieci segreti di Medjugorje segnerà la fine del primo combattimento escatologico. Stiamo per negli ultimi tempi, stiamo per entrare nella prima fase di quel combattimento escatologico che nella sua seconda fase, dopo il tempo della pace, dopo il secolo di prosperità e di pace di cui parla la Madonna nel messaggio del Natale 1999, vedrà finalmente Gesù affrontare direttamente e sconfiggere per sempre il maligno e sarà la fine del mondo. Leggiamo allora questo messaggio che vedrete di una particolare ricchezza e intensità. 18 marzo 1991, messaggio a Miriana. Figli miei, sono contenta di vedervi riuniti in così grande numero. Desidero che spesso vi riuniate insieme a pregare mio figlio. È bello questo esordio perché tante volte la Madonna è stata criticata a Medjugorje per queste apparizioni pubbliche che raccolgono migliaia di fedeli, di pellegrini, magari anche di curiosi, ma c'è bisogno di tutto questo gran movimento di folle? Beh, la Madonna dice, sono contenta di vedervi riuniti in così gran numero. Tante persone erano lì per l'apparizione. Ma la Madonna non concentra l'attenzione su di sé perché dice, vorrei che spesso vi riuniste per pregare insieme mio figlio. La Madonna ci porta a suo figlio, non ci porta a sé stessa, non è autoreferenziale. È bello vedere come in tutto il percorso dei messaggi e delle apparizioni di Medjugorje si realizza quel percorso a Gesù attraverso Maria che è tipico della consacrazione monfortana. E aggiunge, sarebbe mio particolare desiderio che dedichiate le vostre preghiere ai miei figli che non sanno nulla del mio amore e dell'amore di mio figlio. Aiutateli a conoscere questo amore. Questo in fondo è l'appello che proprio a Miriana la Madonna aveva rivolto nelle apparizioni particolari cominciate nel 1987 e terminate 33 anni dopo, un numero non casuale, l'età di Cristo. Nel 2020, il 2 marzo, la Madonna consegna a Miriana l'ultimo dei messaggi del 2 del mese, messaggi che sono stati consegnati come messaggi pubblici con una certa regolarità dal 1997 e ogni mese il 2 appunto dal 2005. Messaggi che abbiamo spesso detto sono per coloro che ancora non conoscono l'amore di Dio o per i non credenti, in realtà erano messaggi per noi, per tutti, in favore dei non credenti perché sono un invito a pregare per loro affinché possano conoscere questo amore. Questo appello fondamentale risuona già in questo primo messaggio straordinario per Miriana, come se Miriana fosse proprio depositaria di questa missione particolare, far conoscere con gli appelli che la Madonna le consegna da inoltrare, condividere al mondo intero, far conoscere a chi ancora è lontano da Dio l'amore di Dio. E questo non vuol dire soltanto aiutare chi è lontano da questo amore, ma anche aiutare la Madonna, che dice infatti e aiutate anche me che sono madre di tutti. Quante volte vi ho ripetutamente esortati a pregare e vi esorto ancora perché desidero che tutti apriate il cuore a mio figlio e gli consentiate di entrare in voi per colmarvi di pace e di amore. Lasciatelo entrare. Ecco noi pregando per quelli che sono lontani dice la Madonna aiutate anche a me. Andando verso il tempo dei segreti sappiamo che ci sarà una grande battaglia tra i figli della luce e i figli delle tenebre. Il diavolo sta facendo il suo bottino, sta ammietendo le anime, ci dice la regina della pace nel messaggio del 25 luglio 2020, e noi dobbiamo fare in modo che sia possibile aiutarla ad avvicinare quante più anime possibili all'amore di Dio, perché dice io sono madre di tutti, è madre della chiesa certo, è madre dei cristiani, ma quando Gesù dalla croce le affida Giovanni, che è il discipolo prediletto, le ha affidato l'umanità intera, è madre anche di quelli che la rifiutano, è madre anche di quelli che sono lontani, e se lei che è madre di Dio si preoccupa di loro, anche noi dovremmo imparare a pregare il Padre nostro con sincerità, occupandoci di tutti i nostri fratelli nella fede, ma anche dei fratelli nell'umanità, di quegli uomini che ancora sono lontani da Dio, dalla grazia, dal Vangelo, e aspettano di conoscere questo amore. Però ci dice la Madonna, voi dovete per primi aprire il cuore a mio figlio, lasciatelo entrare. Qui mi viene in mente l'appello di San Giovanni Paolo II, spalancate le porte a Cristo, lasciatelo entrare perché la sua signoria sulla vostra vita vi doni questa pace, questo amore, questa pienezza di vita. È importante questo perché lasciando entrare Gesù possiamo ottenere con Lui, che è pace e amore, la pace e l'amore da donare al nostro prossimo. Prosegue infatti la regina della pace dicendo con la vostra preghiera, fate sì che egli entri in voi, affinché diventiate capaci di diffondere fra gli uomini la pace e l'amore, perché questa è la cosa più importante in questo tempo di lotta contro Satana. Noi sappiamo che lo scatenamento del maligno, che in modo particolare la Madonna ci ha ricordato nel messaggio del 1 gennaio 2001, dicendo che Satana è libero dalle catene, prepara il tempo dei segreti, prepara il momento in cui il maligno scatenerà un attacco senza precedenti. Noi siamo entrati in un escalation di questi assalti del diavolo, al punto che il 25 marzo 2020 la Madonna ci ha detto Satana regna, è come se questo potere per divina permissione arrivasse a fare sempre più vittime, è una lotta e noi siamo chiamati a fare la nostra parte aiutando la Madonna, ma per diffondere pace e amore che il nostro cuore ferito dal peccato originale non possiede, dobbiamo aprirci a Dio che è pace e amore. Dobbiamo chiedere a Dio di donarsi a noi perché possiamo donarlo agli altri, dobbiamo chiedere a Dio di fare l'esperienza di questa pace e di questo amore perché la possiamo donare a quelli che ancora non conoscono questo amore. Questo tempo di lotta contro Satana è la vigilia del tempo dei segreti, ecco perché la Madonna prosegue dicendo, vi ripeto, pregate, 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 perché solo con la preghiera potete allontanare Satana e tutto il male che viene da lui. Il triplice invito alla preghiera, pregate, 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 è caratteristico di tanti messaggi di Međugorje, non servono teorie, non servono analisi e anche lo scopo di queste nostre conversazioni, di queste nostre catechesi vuole essere quello di dare un ammonimento concreto e salutare per come vivere questo tempo di attesa dei segreti, non per sapere qualche nozione in più. Non serve a nulla una conoscenza che sia sterile o che soddisfi una vana curiosità, dobbiamo vivere questo messaggio che la Madonna ci affida, questa esortazione a essere pronti. Pregate, 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 perché solo con la preghiera potete allontanare Satana e tutto il male che viene da lui. E prosegue ancora, vi prometto figli miei che pregherò per voi, ma vi chiedo di essere più costanti nella preghiera e di diffondere pace e amore, cosa che vi domando da quasi dieci anni. E' a distanza di altri trent'anni, diciamo, è quarant'anni che la Madonna ci sta chiedendo di accogliere il Dio della pace, il Dio dell'amore, ci sta invitando a diventare i suoi apostoli dell'amore. Questa vocazione particolare, che in fondo è il formare i suoi apostoli degli ultimi tempi, significa prepararsi al tempo dei segreti, significa perseverare nella preghiera, per essere in una comunione sempre più costante con Dio. Ogni giorno la provvidenza ci fa incontrare persone in casa, tra i vicini, a scuola, sul lavoro, in strada, persone che hanno bisogno di ricordarsi che Dio è amore, persone che hanno bisogno di sperimentare questo amore per credere all'amore di Dio anche quando comincerà il tempo dei castighi, il tempo della prova, quando la fede di molti vacillerà e sarà scossa. Ecco perché dobbiamo essere perseveranti nella preghiera per vivere ogni giorno in questa comunione di preghiera e di amore. Ecco perché la Madonna ci esorta dicendo ancora aiutatemi e io pregherò mio figlio per voi. Dobbiamo aiutare la Madonna. È bello pensare che ognuno di voi, di noi, è fondamentale in questo piano che il cielo ha affidato alla regina della pace per chiamare l'umanità attraverso di lei la conversione per l'ultima volta. Queste sono le ultime apparizioni mariane. Termineranno con il tempo dei segreti, termineranno con il trionfo del cuore immacolato di Maria, ma in questo tempo noi siamo chiamati ad aiutare la Madonna. Lei sta lavorando incessantemente da quando suo figlio le ha detto ti affido l'umanità. Sta lavorando per la conversione del cuore di quanti ancora non conoscono l'amore di Dio. Noi dobbiamo aiutarla. Se Maria è corredentrice siamo invitati, cari amici, a diventare anche noi corredentori dell'umanità, a collaborare perché ciascuno di noi è importantissimo in questo piano di salvezza. Nessuno si sente inutile, nessuno pensi io valgo poco. Siamo una meraviglia stupenda, come ci dice il Salmo. Siamo chiamati a essere figli di Dio e il Padre conta sull'aiuto di tutti i Suoi figli per realizzare questo progetto di pace. Ma dobbiamo fare tesoro degli ammonimenti della Madonna che in questo primo messaggio del 18 marzo e il 1991, quando sta per crollare l'impero del male, quando stava per cadere l'Unione Sovietica, quando stava per cominciare a realizzarsi il trionfo del cuore immacolato di Maria, che si compirà soltanto dopo il tempo di Dieci Segreti, già ci diceva lasciate entrare mio figlio, spalancategli le porte perché lui solo è quella pace e quell'amore che il tuo cuore cerca e di cui il mondo ha bisogno. Non rimaniamo allora in passiva attesa, cari amici, ma facciamo nostro questo invito a essere perseveranti nella preghiera. Prendiamo sul serio questo messaggio, viviamo i messaggi di Maria che ci invita alla preghiera, ci esorta a pregare tutti i giorni il Santo Rosario e se possibile accostarci quotidianamente alla Santa Messa. Sia questa vita di perseverante preghiera il modo più concreto e il segno per il mondo che stiamo prendendo sul serio questo appello alla conversione che la Madonna ci rivolge e che vogliamo vivere nell'attesa vigilante e orante, l'attesa dei Dieci Segreti di Medjugorje. Sia lodato Gesù Cristo!